Polemica tra maggioranza e opposizione durante la discussione e l'approvazione del bilancio di previsione del comune di Frosinone al momento della discussione dell'emendamento presentato dal consigliere Stefano Pizzutelli e appoggiato da tutti i consiglieri di minoranza in cui si chiedeva di diminuire finanziamenti del progetto Solidiamo per dirottarli su altre tematiche importanti per la città come gli asili e su settori del sociale. L'emendamento però è stato respinto causando un acceso contrasto tra maggioranza e opposizione. Come conferma il consigliere di minoranza Vittorio Vitali a cui risponde Danilo Magliocchetti consigliere di maggioranza. Delusione per l'emendamento relativo alla riduzione delle risorse destinate a Solidiamo, al fondo Solidiamo che la minoranza avrebbe voluto su emendamento del consigliere Stefano Pizzutelli destinare invece a questioni di carattere sociale perché c'è il rischio che gli asilo nido vedano una riduzione del budget destinato a loro e ci sarebbe stata la volontà da parte della minoranza se ci fosse stato il consenso della maggioranza di spostare le risorse provenienti dai consiglieri e dagli assessori proprio per salvaguardare i diritti delle famiglie che hanno la necessità di vedere in qualche modo questi asilo nido funzionare. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dalla minoranza alcuni sono stati dichiarati direttamente inammissibili da parte della dirigenza tecnica e dei revisori dei conti altri invece pur condivisibili dal punto di vista del merito del principio però andavano a snaturare un po' quella della mission dell'amministrazione in particolar modo quello del progetto Solidiamo. Il progetto Solidiamo è nato per premiare quelle fasce sociali di ragazzi non certamente abbienti e quindi per questo l'amministrazione ha votato no ma soltanto per la continuità amministrativa che è quella che poi ha consentito all'amministrazione ottaviana di vincere le elezioni.